Un avviso a tutti gli appassionati di giardini storici e di more storiche. A Cordovano c'è un castello ancora perfettamente conservato nel borgo antico con un grande, meraviglioso giardino all'inglese. All'interno del giardino poi esiste anche un labirinto delle rose di Damasco e domenica 19 maggio, appuntatelo, cioè oggi, ci sarà la possibilità di visitare tutto questo con delle guide che vi porteranno anche a conoscere tutti i segreti e le meraviglie della famiglia Piccolodi da secoli proprietaria di questo castello. Ricordatevelo, a Cordovano, il giardino storico del castello di Cordovano. Nel giardino potrete ammirare anche collezioni di rose antiche oppure delle splendide vacce perenni come le digitali. Roberto Davide Valerio, alla prossima! Grazie a tutti!